Idea Web con Lia Hardeman schiacciatrice della LPM Ban Mondo V pochi minuti dopo la vittoria per 3-0 contro il Cus Torino Ovviamente a Lia faremo qualche domanda in inglese con traduzione in immediato La prima domanda sarà sul miglior modo per rispondere a una sconfitta, chiaramente dopo quella partita di Montale, il 3-0 contro il Cus Lia, magari questo è il migliore modo di rispondere a una perdita? Sì, sì, credo che tutti noi siamo pronti per tornare e provare a noi che siamo la stessa squadra prima del Cus Torino E credo che abbiamo preparato anche per il gioco contro Montale, abbiamo preparato anche per il Januari che è venuto che abbiamo solo 3-2 giorni tra i match, quindi credo che questo è un buon gioco per noi, per tornare a tornare Sì, sicuramente è stata una bella partita per tornare, chiaramente la partita di Montale è stata difficile ma è stato comunque un modo per continuare a giocare, per continuare a provare a mettere in pratica le cose Prossima domanda parlerà invece della grande performance globale di tutta la squadra Tonight, every hitter looked good, everyone played very very well Sì, questa settimana tutti gli attaccanti in settimana hanno provato cose nuove, palle nuove ed è bello vedere che le cose vanno bene Ultima domanda, chiaramente la sua ottima prestazione Last question Your awesome performance, probably is the best game you ever had in Mondovì Sì I think, especially being here for 3 months now, 3-4 months, I've been able to gel with the team and, you know, geling with my setter as well I'm definitely still struggling with passing, but I think I'm definitely getting better and it's just the connection in the camaraderie with everyone has been making it easier to play Chiaramente, andando avanti le partite, andando avanti i mesi, le relazioni con la squadra del palleggiatore stanno migliorando c'è ancora qualche problema in ricezione, comunque si prendono gli aspetti positivi Thank you so much, Leah You're welcome